Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e così sia, sia lodato Gesù Cristo, siamo giunti, cari fratelli, alla domenica nell'ottava della Ascensione e la memoria in questa messa è proprio quella dell'Ascensione, quindi della ottava. Siamo anche nel periodo della novena alla festa di Pentecoste che cadrà domenica prossima. Ricordo che la vigilia è giorno di astinenza e digiuno. Cade poi anche oggi, come avrò modo di dire in questa omelia, la festa di Maria Ausiliatrice. Purtroppo in questa diocesi di Casale non è nel calendario e tuttavia è però nel nostro pensiero e nelle nostre preghiere. E anche la patrona della casa delle nostre religiose, alle quali va il nostro augurio. Naturalmente il cuore è pieno di dolore al pensare che, benché si possa già celebrare in pubblico, come facciamo già in alcune località, dove abbiamo ripreso il nostro apostolato più o meno normale, in altre invece ciò non è ancora stato possibile. E il mio cuore, il mio pensiero, la mia preghiera durante questa messa va a tutti i costori, tutti coloro che anche oggi sono privati, ingiustamente possiamo dire, della Santa Messa e del conforto di ricevere il corpo e il sangue di Cristo. A tutti loro vada quindi con questo mezzo la mia, la nostra preghiera e la promessa che presto, a Dio piacendo, ci potremo vedere di nuovo. Quindi tenetevi sempre aggiornati per sapere con quali modalità penseremo di mettere in pratica questo proposito. Il periodo liturgico in cui ci troviamo ci pone uniti, idealmente, in unione di cuore, di pensiero, con la Chiesa nascente, quando dopo l'ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, eseguendo il suo comando, i primi cristiani, riuniti attorno agli Apostoli e sotto la guida di Maria Vergine, si radunarono nel Cenacolo, là dove il Signore aveva offerto il Giovedì Santo il suo corpo e il suo sangue e celebrato per la prima volta il sacrificio della Nuova Alleanza, che sta anticipando sacramentalmente quello della Croce, in preghiera. In preghiera unanime, di cuore, di carità e di fede, attorno alla Vergine Maria. E noi vediamo quindi questa Santa Chiesa, malgrado tutti i suoi nemici, che germoglia come un piccolo seme e diventa un grande albero sotto la protezione di Maria Vergine, che in tutte le difficoltà, in tutte le traversie, in tutte le angustie, è sempre presente per essere appunto ausiliatrice dei cristiani, di ogni cristiano, di ogni singolo cristiano, quali siamo noi, in virtù del battesimo e della fede, e della Chiesa tutta insieme. Noi sappiamo come Don Bosco, questo grande santo di Torino e di tutta la Chiesa, possiamo dire, ebbe questa grandiosa devozione per Maria ausiliatrice ed è ancora testimone a quel miracolo della fede, che è la sua basilica dedicata alla Santa Vergine, dove Don Bosco volle porre, sul frontone della Chiesa, due date, sono due date non misteriose. La prima ricorda la vittoria di Lepanto, delle forze cristiane coalizzate sotto la presidenza di San Pio V, Papa, contro i negatori della divinità di Cristo, gli islamici, gli ottomani turchi. E l'altra data, forse meno nota, è quella del ritorno del Papa a Roma, quando una prima volta furono soppressi gli stati della Chiesa dall'invasore che si faceva forte dei principi della rivoluzione francese. Ma quella occupazione fu effimera, perché al fine, sotto la pretazione e la protezione di Maria ausiliatrice, ecco che Papa Pio VII poté tornare nella sua sede e nei suoi stati. Ora abbiamo una doppia occupazione, sia nel temporale, sia nello spirituale. E dobbiamo chiedere a Maria ausiliatrice di intervenire nuovamente per proteggere ogni singolo cristiano nella sua vita di fede e per proteggere la Santa Chiesa, tutta quanta, contro ogni nemico interno ed esterno. Maria ausiliatrice era anche la patrona prescelta dal Sodalizium Pianum, cioè l'associazione San Pio V, fondata da Monsignor Benigni, per lottare contro l'eresia dei nostri tempi, dei suoi e dei nostri ancora oggi, cioè il modernismo, e contro tutti gli errori, sia nel campo strettamente religioso, sia in quello sociale, che al religioso però è collegato strettamente. Maria ausiliatrice e San Pio V erano quindi due principali patroni con San Pietro e San Paolo di questa associazione, benedetta tante volte da San Pio X e che quindi, ovviamente, come in ogni battaglia, suscitò l'odio di tutti coloro che invece si opponevano alla Chiesa e ai suoi principi, ai nemici esterni e dichiarati, ai nemici interni e nascosti. Ma il nostro dolore più grande di vedere purtroppo che le calunnie che i nemici del Sodalizium Pianum e di San Pio X rivolgevano a loro nei tempi passati sono ripetute oggi da alcuni che si dicono e dovrebbero essere tradizionalisti. Prendendo i medesimi argomenti dal nemico e dai loro scritti per diffamare, trascinare nel fango la memoria di questi fedeli collaboratori di San Pio X e emuli dell'opera di San Pio V che sotto la protazione di Maria ausiliatrice non hanno avuto timore di rinunciare a ogni cosa e prima di tutto la buona fama per poter difendere strenuamente e senza compromessi la verità. Lo ripeto, è per me e per noi un grandissimo dolore. Come un grandissimo dolore aver visto recentemente, è stato sulle cronache e commentato ampiamente da tutti, vedere accolte con grandi feste. Certo ci si rallegra se una vita è risparmiata. Una povera persona che in circostanze certamente difficili ha però rinnegato la fede. E allora il pensiero viene a tutti coloro che specie in quei paesi che sono sotto la dominazione islamica hanno invece sparso e spargono ancora oggi il loro sangue per la fede. Allora, cari fedeli, come accogliamo questi fatti anche noi? Pensiamo che la Chiesa nascente, secondo le parole di Gesù nell'ultima cena, queste parole che vi ho letto nel passo del Vangelo di oggi, nasce nella persecuzione e dice il Signore vi cacceranno dalle sinagoge e l'ora viene in cui tutti coloro che vi uccideranno lo faranno pensando di rendere onore a Dio ma questo lo fanno perché non conoscono né il Padre né me. Ecco, vedete, molte volte si pensa che è coloro che perseguitano la Chiesa, che la combattono, che negano le verità della nostra santa fede, lo fanno per ignoranza e per il fatto stesso senza alcuna colpa. È vero che a volte l'ignoranza quando è invincibile, cioè quando non è una colpa, non è colpevole, scusa dal peccato, ma è anche vero però che molte volte l'ignoranza è colpevole. Infatti, dice Gesù, coloro che vi perseguiteranno, cioè la sinagoga, lo faranno pensando di rendere onore e culto a Dio ma questo lo fanno perché non conoscono e non vogliono conoscere né il Padre né me perché odiano sia il Padre che me. Mi hanno odiato, dice Gesù, senza motivo. E quindi molte volte l'ignoranza di tanti sia nella fede e conseguentemente anche nella morale è colpevole perché è dovuta al fatto che non si è voluta conoscere la verità, che si sono chiusi gli occhi di fronte alla verità. Ma se l'ignoranza di tanti è colpevole, ancora di più è colpevole per coloro che sono stati battezzati, che sono stati educati nella fede e che poi l'hanno abbandonata e trascurata. Se più facilmente ci può essere una giustificazione per coloro che sono stati cresciuti lontano dai principi della fede e invece questo non so veramente come si può trovarlo nei confronti di coloro che fin dall'infanzia sono stati nutriti con i sacramenti, con la fede, con la dottrina, con la dolce pensiero di Gesù Cristo della sua madre e poi hanno calpestato tutto ciò. Cari fedeli, anche noi, anche ciascuno di noi deve lottare non solo contro i nemici esterni della fede che oggi sono sempre più numerosi ed essere pronto per questo anche a dare la propria vita se fosse il caso, ma dobbiamo lottare e questo è più insidioso e più difficile con un nemico occulto che siamo noi stessi. infatti le nostre debolezze le nostre fragilità le nostre miserie le sequele del peccato originale le sequele dei nostri peccati attuali che lasciano anche dopo il perdono le proprie conseguenze le proprie abitudini cattive sono un nemico nascosto e insidioso in ciascuno di noi per non parlare delle tentazioni del demonio del mondo della carne della concupiscenza degli occhi dalla superbia della vita di cui parla la Sacra Scrittura ebbene cari fratelli in questa lotta spirituale più importante ancora di una battaglia materiale abbiamo una ausiliatrice che è la Vergine Maria ricorriamo sempre alla Madonna alla Madre di Dio a colei che ha stretto tra le sue braccia il bambino Gesù e troveremo tramite lei per mezzo di lei questa fede nella divinità di Cristo nella sua santa umanità nel mistero dell'incarnazione questo grande amore per Gesù e questo grande odio per il peccato e il serpente infernale e di tutta la discendenza di questo serpente e infine per non trattenermi troppo vorrei prima di proclamare la nostra fede nel credo prima di offrire e immolare il sacrificio di nostro Signore ancora una volta vittima per noi che ci applica i metri della passione vorrei dire con voi alcune preghiere che riguardano appunto Maria Ausiliatrice ed innanzitutto la colletta della sua messa propria di oggi o Dio onnipotente e misericordioso che a difesa del popolo cristiano ha immirabilmente stabilito nella Beatissima Vergine un continuo aiuto concedici propizio che combattendo in vita muniti di tale scudo possiamo in morte riportare vittoria dal maligno nemico abbiamo poi la preghiera fraterna dei membri del Sodalizium Piano anche oggi anche noi dobbiamo essere fraternamente uniti in una grande carità di cui parla San Pietro nell'epistola di oggi proprio perché abbiamo i medesimi ideali e la medesima fede Gesù Cristo nostro Signore e Redentore ti supplichiamo per il trionfo della tua santa causa contro i suoi nemici e falsi amici che tu voglia raggruppare i suoi fedeli combattenti la buona battaglia dispersi per il mondo affinché si conoscano si accordino nell'animo e nell'opera degnati fornire loro i mezzi materiali e morali necessarie ed opportuni a tale scopo preghiamo altresì che secondo la tua divina promessa tu sia sempre in mezzo a loro benedicendoli invitati in morte così sia e infine voglio terminare con la bellissima preghiera che Don Bosco ha rivolto con l'affetto di figlio a Maria ausiliatrice e che facciamo nostra oh Maria vergine potente tu sei grande e sublime difesa della chiesa tu mirabile aiuto dei cristiani tu sei terribile come una schiera ordinata a battaglia tu che da sola sbaragliasti tutte le eresie nel mondo intero tu nelle afflezioni nella guerra nelle difficoltà difendici dal nemico e nell'eterna gioia accoglici nell'ora della morte e così sia nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen ausilium christianorum ora pronomis che chiedi chiedi Grazie.